Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale Oggi facciamo un nuovissimo vlog Indovinate il maneggio Allora vi farò vedere come pulisco il cavallo Come sistemo Adesso che Scusate il vento Adesso che monto Il sabato monto sempre alle 4 Per cui c'è sempre il sole Vi faccio vedere Ragazzi test Riconosciamo i cavalli in giostra Allora Guarda che sono basa Non ci vede Non arriva nessuno Eccolo Questo è Harry Aspetta ma io Sono curiosi Questo è squisito Questo è la ghost Bascina La ghost Chi arriva? Chi arriva Sofì? La giucchia è lui Sofì non lo vede Harry Ciao Aspetta se adesso E quella che arriva adesso è arco Ecco lo più alto di tutti è arco E' facile vero? Il gigantone Il gigantone Eccolo il gigantone Ciao Buona giostra Andiamo a vedere Dov'è oscura? Sì Dov'è oscura Lo so dov'è oscura Sì Sì In attesa che arrivi Sofì Veramente no Secondo me spera di riposarsi oggi E invece E invece niente Però dai oggi si va fuori Si monta fuori eh All'aperto Facciamo vedere anche il campo all'aperto Sì Che è bellissimo Fa un pochino più difficile Perché non ha la forma Cioè E' diverso di forma Però è bello Ciao 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 Quanto sei zozza? Oscu Quanto sei zozzosa? Quanto sei zozzosa? Quanto sei zozzosa? Sozzosa? Adesso facciamo una cosa Adesso ti metto Ti do una pulitina Gli do Magari gli do anche subito una pulitina E poi la portiamo a mangiare Guardate Che poi gli do una pulita La portiamo a mangiare Se poi ci fosse solo da stellare Sì Ma dove la portiamo a mangiare proprio? Perché là c'è Matteo che lavora col trattore Eh Aia Senti Giulia vai Oscura Mia Secondo voi Chi era che chiamava? Dice Che stai guardando? Perché stai guardando? Di altri cavalli E non guardi me Sono gelosa E tiro indietro le orecchie Sono una gelosona Vero Oscu sei gelosona? Andiamoci se pulisci allora Via 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 Mi c'è la cassetta Firmata Firmata bagunatai Aiuto Sofì oscura Andiamo C'è la scelleria Poi ci mettiamo anche la nostra Sofì Vediamo che stai guardando la mia Vediamo che stai guardando la mia Ok Nooo oscura Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? C'è un feltrino in mezzo Eh vabbè dai Tanto te li abbiamo portato pulito il feltrino Sì Però se invitava di giocarci Perché probabilmente c'ha Nooo No no era oscura Mimma dai Povero feltrino Povero feltrino Guarda che li hai porto Guarda Come lì? Sì sì è mio Buono Senti? Va bene Sì sì è mio E' quello tuo? Oscu Sì Non provi in qua per favore Dai Andiamo Un po' in qua Sì Troppo Così Così Una bella passata Guarda Guarda che coda zozza che c'ha E porca questa bimba Vedete Vedete Ah I grattini Ah Che bello O li amo Oscuro è curioso del telefono Cosa c'è? Mi scusi? E' il telefono questo Ormai lo conosce E no? Con le orecchie inghiette Tutta sgaruffata Sì Sì Come tutte Come tutte le volte Passata Tutta bene Baccio di incoraggiamento Adesso Questa striglia L'ho passata Per alzare Sì Per togliere la polvere Sotto il pelo Il pelo che Adesso Sta perdendo E poi La brusca Per C'è la brusca O spazzola Ed è morbida La uso anche Per il muso E serve per levare La polvere Che si è alzato Dove sei? Qua Pancino Occhio Sempre attenzione Mi passo la striglia Sulle gambe Perché se no Sono ossa Li faccio male Almeno con questa Di ferro Li faccio male Poi quello di gomma Non c'era più Sì Se adesso si fa il musino Questa la poso Il musino Si scansa Mi scanzo io Perché te mi scotoli Poi Dopo aver fatto il manto Il corpo e il callo Gli faccio la criniera La coda E il ciuffo E il ciuffo Guarda C'è anche Mi scusi C'è un pezzetto Di trusolo Nel ciuffo Lo faccio con la spazzola E lo ciuffino Che Diciamo è Balsamo secco Districante Quasi quasi Lo porto a casa Anch'io stasera Su film Balsamo secco Districante Le pulizioni De cavalloni La Tutta pronta Ciuffino E ciuffetto Ciuffino Mi scusate E ciuffino Che noi non gli mettiamo mai La Copri orecchie Lì Va mala Dai che si mangia L'erba O scu O scura Facciamo fa Il pratino Guarda c'è Calypso Che curiosa Ciao È presto No guardate Aspetta Perché lei Vuole vedere Cosa c'è qui dentro Ma qui dentro Non c'è niente È presto È presto ancora Cosa fa Sofì Perché mi sta pulendo Se li controlli O scura Le mele Sofì Posizione Da pulizia Di piedi Eccola Sua maestà Prego Vedete Pulire tutto Quanto bene Sofì Meglio Ancora Ancora Ferma O scura Questa è tutela Io uso questo rosso E deve andare Più o meno La metà Della spa Ha detto di no O scura Invece Si tira L'abbiamo Piscione Subito Poi Alza paletto Cuscinetto Agnellino Come lo volete chiamare O scura Ferma Dove vai? Già pronta a partire O scura Chiude Qua Va bene Metto Questa parte Dove non c'è Dove non c'è L'elastico Alla Adesso Le callo Quella Dove c'è L'elastico Alla Sista Le callo Mi raccomando Usare la testa Per leggere Si 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 Ha un brontolare Gonfia la pancia Per cui non mi aiuta Si Vero Non li sto stringendo Ragazzi Al primo E al primo Guardate Guardate O scuro Come fa Tengo un pochino Eh Eh Diti Ma mi sto in giro la pancia Eh Bisogna Ragazzi Quando stringete Il sottopancio Stare Fatto attenti Al cavallo Perché Come lei Dopo un po' Si stufa Si gira E muzzica Circa di Musigare Adesso Io tiro un altro Un pochino Solo Uno solo Oppure Via Uno solo Uno solo Ok Ce l'ho fatta Adesso Vediamo Abbastanza tirato Ce le faccio Tirare Un bunchio Sì 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 Io tiro Un altro Po' No Se va bene È stretta Ok Controlliamo Le staffe Vediamo un po' Come si controllano Si controllano Tirandole giù Mettendo la mano Qua E se arrivano Alla scelta Sono giuste Poi vanno Ritirate su Sofì Sì È la sella Che hai usato Ieri sera Eh Lo so Ma non ci sono mai Se nella notte Se le sono ritirate Le braccia di Sofì O Di staffili Eh Il mantello Pronti Attenti Via No Non funzionato No Sì Ma c'ha la riga Nel mezzo È facile Perché vedi C'ha la riga Nel mezzo Dove sta Nel mezzo Il cavallo Più su però Così Ecco Ciao Adesso Leghette Ah Vedi 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 che comoda lei Funge anche da Sgavello Già Calzare il capo Semprissimo Vero E chiudere Mi raccomando Ciao I guanti dove l'hai messi? In tasca Ciao Vediamo un po' Se Oscura collabora Quanto è alta Sofì Messa bene Dritta Quello si aggancia lì Come si chiama quello Sofì? Capezzino Poi Quello Metto i guanti Vediamo i guanti L'ultima cosa Prima di salire Senta No Sì 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 Frustino Frustino Sì Quindi una cassetta Frustino Rosa Vedete Dai Fala brava Stanno uscendo Fala brava Che dopo si mangia biscotti Dove andate? Non lo so Però Uscita Miriam Uscita Oscura Vedi Ce l'abbiamo tutti Il cavaliere mascherato Si arriva vento Ora porta anche Elan con voi Eh? Viene anche Elan oggi Vedi? Che non andava bene al quarto Dai tira 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 Ok Mi ammette a posto un po' di casino qua su Dai Saluta Bappo, saluta Bappo, non saluta Bappo, ferma. Tornare all'interno, forte Bappo, morbida, è forte, è forte. Prendi riferimento, alza la testa circa, dietro le spalle, seduta, stressione, destra a Sì, oscura, ho il cappuccio perché ho freddo. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. E ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mettete un sacco di like, iscrivetevi al canale YouTube, attimo la campanella, din-don-din-don e ciao! Alla prossima! Ciao! 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 Ciao!